Questa domenica il Vangelo ci propone la parabola forse più importante per comprendere la misericordia, la parabola del padre misericordioso. Onestamente non mi piace chiamarla del figlio il prodigo perché questo padre ha due figli prodighi, due figli che rappresentano ognuno di noi, chi più uno chi più l'altro. La verità è che entrambi non si comportano da veri figli perché uno si comporta da ribelle e l'altro si comporta da servo. L'obiettivo di questa parabola è quello di farci cambiare l'opinione che abbiamo di Dio perché entrambi i figli sono immagini della nostra fede. Con la fede spesso o abbiamo un rapporto da ribelli o abbiamo un rapporto da servi. Allora vediamo insieme queste tre tipologie, il figlio minore cioè il ribelle, il figlio maggiore cioè il servo e poi il padre misericordioso. Il figlio minore, il primo figlio che ha un'idea di Dio precisa, Dio blocca la mia vita, Dio mi dà fastidio perché mi lega. Infatti vediamo nel Vangelo che vuole l'eredità, vuole ciò che deve avere e che magari non ha neanche guadagnato con il suo sudore. Vuole libertà, vuole soldi, vuole successo, vuole i doni senza riconoscere il donatore. Lui è l'unico punto di riferimento di se stesso, ovvero Dio non esiste. Nella fede di oggi, chi possiamo vedere in questo figlio ribelle? Colui che non accetta la Chiesa, che non vuole approfondire la fede, colui che prende solo ciò che vuole e si mette a giudicare a livello morale, a livello etico, a livello anche liturgico sacramentale ciò che la Chiesa propone. In un certo senso sentendosi come Dio, oppure anche meglio del Papa. Uno che vuole una vita di fede autonoma, indipendente, un supermarket della fede. Però vediamo nel Vangelo di oggi che, passata l'euforia, a questo figlio ribelle arriva la carestia. Dopo l'illusione c'è sempre la delusione, pensando che la Chiesa ci lega, noi ci leghiamo alla superficialità del mondo, pur facendo di testa sua questo figlio che è uscito dalla casa a un vuoto interno incolmabile. Luca nel suo Vangelo dice questa frase, che questo figlio rientra in se stesso, cioè dice ho sbagliato io, voglio farmi servo adesso della mia famiglia. E allora parte verso la casa del padre e il padre gli corre incontro e lo cerca per abbracciarlo. Il padre interrompe il figlio nelle giustificazioni del perché fuggito di casa, ma lo prende con un abbraccio. Sicuramente il figlio il prodigo, questo primo figlio, è tornato a casa anche per convenienza. Ma il padre misericordioso chiede di fare festa e gli ridà la dignità senza sé e senza ma, l'importante è riaverlo, poi un passo alla volta gli farà comprendere ciò che ha commesso. Poi c'è la seconda figura, il figlio maggiore, quello che si comporta da servo e questo figlio onestamente assomiglia a molti cristiani, nella fede a chi possiamo riferirlo? A colui che è sempre ligio ai doveri della chiesa, alla sua ritualità, che è incatenato in una gabbia per paura di avere un Dio giudice che gli fa guadagnare l'inferno. Colui che magari prega anche tanto, con tante parole, ma con poco cuore. Colui che è sempre pronto a giudicare chi ha dei passi indietro nella fede. Ecco, questo figlio forse è stato a casa con il padre solo per tenerselo buono e poi, appunto, si sente messo da parte rispetto al figlio tornato a casa. Gli dà fastidio che il padre accoglie il figlio che ha sperperato tutto e non tiene conto invece di lui che gli è sempre stato vicino. Ma come gli è stato vicino? Il padre è misericordioso con entrambi i figli, infatti lo guarda con amore, lo supplica perché lo conosce bene. Ha un figlio che fa il bravo ragazzo, ma non è convinto di esserlo. Un figlio che molto probabilmente ha messo una maschera per troppo tempo. Un figlio che vuole solo fare bella figura, ma non ha la gioia interiore per ciò che vive. E allora dopo aver visto queste due figure di figli c'è la figura del padre misericordioso, un padre che corre il rischio educativo di non ostacolare i figli. Quante volte invece oggi i figli si cercano di imprigionare in schemi che si pensano i migliori e adatti per loro. Un vero padre sa che sbattendo il naso possono imparare. E' un padre non rancoroso e vuole solo dare un'altra opportunità a entrambi. Non gli dà due sberle, ma gli dà due abbracci. Non dice, te l'avevo detto, ma ama vedendo il bene in loro. Guarda che Dio con te si è sempre comportato così. Non ti condanna mai. Perché allora noi ci dobbiamo comportare come da padroni e non da padri misericordiosi? Questa è la domanda che chiude un po' il Vangelo di questa domenica. Come comportarsi con le altre persone? Ecco allora il nostro Dio chi è. Un Dio che rischia di essere abbandonato e messo da parte dal figlio ribelle. Un Dio che non vuole figli schiavi, ma che vuole figli da amare e perdonare. Un Dio che non rinfaccia, ma che abbraccia. La parabola non ha una fine. Non si dice se un figlio fa festa e l'altro capisce di essere schiavo. Allora è bello finire questa riflessione con una domanda. Chi sei tu? Chi sono io? Chi siamo noi? Entriamo a fare festa oppure continuiamo a non accettare un Dio nella nostra vita? Capiamo che Dio ci vuole liberi e gioiosi e non pretende nulla oppure preferiamo essere ingabbiati? Questa quaresima ci deve insegnare a entrare nella logica dell'amore incondizionato di Dio, proprio per incontrare il vero volto di Dio, un Dio che ci dona amore con libertà e ci perdona ogni volta che cadiamo, rialzandoci e dicendoci bentornato a casa.